Passaggio elettorale nella cittadina di Taurianova di Francesco Toscano, avvocato candidato alla Camera della Lista del Popolo per la Costituzione nel collegio uninominale numero 7 Gioia Tauro Locri, nonché capolista nel plurinominale della circoscrizione Calabria Sud. Nel comizio effettuato in Piazza Italia, il candidato del movimento guidato dall'ex magistrato Antonio Ingroia ha sottolineato che il progetto della Lista del Popolo non si esaurisce con il 4 marzo. Siamo l'unica lista che vuole difendere e attuare i valori della nostra Costituzione, valori che oggi sono più che mai traditi, umiliati, vilipesi, da una classe politica trasversale che da decenni non fa altro che mettere sotto i piedi le conquiste di civiltà che le generazioni dei nostri padri e dei nostri nonni avevano difeso. È il momento di dire basta a questa politica consociativa che ha distrutto la politica in quanto tale, che ha creato disarmonia sociale, che ha creato una generazione di nuovi poveri. L'Italia sembra come uscita dalla guerra, toccherà alle persone di buona volontà e a quelli che hanno voglia e coraggio ricostruire un paese che oggi è in macerie per colpa di una classe dirigente, del PD, di Forza Italia e dei centristi vari che hanno disintegrato la civiltà italiana. La lista è presente in tutta Italia e perché la scelta cade proprio su Ingroia? Ingroia è un magistrato di valore che ha provato a mettere al centro delle sue inchieste e non si è mai limitato a colpire bassa manovalanza. Chi conosce un po' di storia di questo paese sa che negli ultimi anni l'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si è fatto garante di una serie di manovre avallando la creazione di governi non soffragati da nessuna legittimazione di tipo democratico al servizio di poteri più o meno finanziari di questa Europa matrigna e cattiva Ingroia aveva provato a fare luce ai più alti livelli e ha pagato il suo coraggio. Per questo credo che meriti stima e fiducia. Giulia Tauro, Locride, cosa ha bisogno di questo territorio? Questo territorio intanto ha bisogno di speranza, ha bisogno di esprimere una classe dirigente capace di difendere gli interessi, ha bisogno di avere uomini politici liberi che non siano influenzabili né etero diretti dai soliti centri di potere massonici o mafiosi che da troppo tempo la fanno da padrone nelle nostre zone.